Capita a volte che io mi butti in casa per fare le preparazioni perché fuori non fa particolarmente caldo in questo mese di gennaio e quindi anche oggi è una di queste volte. Che cosa facciamo oggi? Oggi ci buttiamo su degli involtini. Avete già visto nel corso del tempo le varie bombette che ha fatto Stefano, che ho fatto anch'io, alcune buone, altre meno buone, gli involtini messinesi venuti male e probabilmente che rifaremo in futuro. Oggi invece però cerchiamo di trarre ispirazione, sempre come molto spesso accade, dalla Bibbia del barbecue e andiamo a prenderci una ricetta che arriva addirittura dal Brasile. Si tratta di involtini con del maiale. Oltre al maiale però in questi involtini abbiamo del parmigiano reggiano, ovviamente grattugiato, del sale, del pepe, un cetriolino, della cipolla, della senape e anche del prosciutto. Vedete qui quanto è tutto incasinato, nel senso che ho già fatto parte. Degli involtini. Adesso vi faccio vedere semplicemente come farne uno e poi continuo. E poi semplicemente andremo a buttare tutto sulla nostra cottura diretta del nostro barbecue. Adesso vediamo un po' di capire quale utilizzare. Andiamo a mettere ancora un po' di parmigiano grattugiato, naturalmente in busta, naturalmente già comperato. Abbiamo questo favoloso recipiente nel quale andiamo a metterci la nostra lonza di maiale, ovviamente disossata e privata di tutte le parti grasse. Scrolliamo la nostra fettina, la adagiamo su un tagliere sul quale andiamo ad aggiungere un po' di pepe, un po' di sale, uno zicchio di senape di digione e abbiamo già tagliato in quattro il nostro cetriolino, ha tagliato a spicchi la nostra cipolla rossa e il nostro prosciutto cotto di quinta categoria che abbiamo comprato oggi. Non abbiamo comprato quello che di solito utilizzo, mi chiedo perché, però va bene così. Andiamo a chiuderlo alla belle meglio e teniamo tutto all'unisono con uno stecchino, che mi tolgo dalla bocca, tanto poi mangio tutto io. E andiamo a far riposare i nostri involtini, i nostri involtini direttamente dentro al frigorifero in modo tale che si amalgamino. Poi andremo a oliare la nostra griglia e naturalmente con la cottura diretta a un calore medio elevato andremo a far dorare la nostra carne. È maiale quindi deve bene cuocere o cuocere bene se preferite e poi con grande tranquillità lo proveremo come facciamo sempre. Chissà come verranno. Adesso io continuo a farle, ho ancora circa un'ora e mezza di lavoro e poi andiamo a cucinarle insieme. Tre ore dopo i miei voltozzi sono diventati così. Ho già oliato la griglia, se avete già visto il video degli spiedini di pollo sapete a che cosa mi riferisco, altrimenti andatevelo a guardare. E metto in mezzo questo e provo a farlo a margine di tutti gli altri così vediamo un po' come viene. Devo farlo dorare, vediamo un po' quanto impiego. Sono passati tre minuti e ho girato il mio involtino. Guardate che bello che sta venendo. Continuo a lasciarlo dorare, vedete i grill marks belli pronunciati e vedete che non è uscito naturalmente il liquido. Sto cercando di rimanere concentrato attento per fare un bel lavoro. Ok ragazzi, secondo me sono arrivato in fondo perché... Me lo giro anche dall'altra parte, ho raggiunto i grill marks che volevo. Adesso me lo tolgo. Vedete com'è diventato dentro. Gusto molto particolare perché la senape dà quella spinta dal punto di vista sapidità ma anche il cetrolino mi fa venire in mente tutte le volte che mangi un panino da McDonald's che trovi... Oddio c'è il cetrolino, tu sai che c'è. Ma poi ogni volta una sorpresa, esattamente come dice Stefano Corsi in Santa Maradona, filmone, guardatelo. Ragazzi, a me convincono molto questi involtini della tradizione brasiliana, naturalmente rivisitati con i nostri ingredienti, per cui con tutto quello che è la nostra tradizione. Adesso vado a farmi tutti gli altri che vedete qui ancora buttati nel piattone e poi chi lo sa come finisce questa serata. Aschieveo! Cosa ci beviamo sopra? Cavolo non lo so. Un nebbiolo? Dai buttiamoci un nebbiolo. Infochiocciolabbcool.it, il Bornos Via Direct su Instagram. Ragazzi. Un bacione.